Un drammatico incidente domestico oppure la consapevole intenzione di togliersi la vita ancora nel mistero quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi in via Mario Battaglia a Comiso dove una donna di 45 anni è morta dopo un volo dal balcone del proprio appartamento situato al quarto piano sul posto avvisata dai vicini di casa l'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna all'ospedale regina Margherita di Comiso le sue condizioni sono apparse meramente drammatiche a tal punto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso subito diretto al trauma center dell'ospedale Canizzaro di Catania nosocomio che purtroppo la donna non è riuscita a raggiungere perché deceduta ancora prima dell'atterraggio la salma della 45enne è stata trasportata quindi nella camera mortuaria dell'ospedale di Comiso intanto proseguono le indagini da parte degli inquirenti intenti a stabilire con certezza la dinamica dei fatti si cerca di capire infatti tramite testimonianze dei vicini e telecamere di videosorveglianza se può trattarsi di una drammatica fatalità oppure di un suicidio così come si è inizialmente pensato tragedia simile a quella di circa un anno fa sempre a Comiso quando una donna questa volta di 62 anni è caduta dal balcone della sua abitazione al secondo piano secondo quanto era stato riscontrato la donna era salita sul muretto sottostante l'inferriata del balcone ma avrebbe perso l'equilibrio terminando sull'asfalto l'episodio si verificò in inviale della resistenza sul posto intervennero i carabinieri e il personale medico ma per la donna non c'era stato nulla da fare ma per la donna non c'era stato nulla da fare